Per le omesse verifiche sui permessi a costruire, il lotto avrebbe perso la sua capacità edificatoria per la costruzione di una quarta palazzina. Per questo l'imprenditore Antonio Rubio trascina il comune di Sulmona in giudizio davanti al tribunale civile chiedendo un max di risarcimento da 300 mila euro. Oggetto della diatribe è l'autorizzazione a costruire relativa al progetto invariante al plano volumetrico già approvato, necessaria per l'edificazione. L'imprenditore ha avanzato una serie di rivendicazioni urbanistiche per il lotto ricadente nella cosiddetta cittadella sanitaria di via Buco della Grotta. Con le sue società Rubio era proprietario della maggior parte dei terreni ricompresi nel lotto in questione. Li ha venduti a terzi ed ora lamenta che l'aria ha perso la capacità edificatoria prescritta dalla legge perché l'ente avrebbe omesso delle verifiche sui permessi a costruire una tesi che appare del tutto infondata secondo il comune. In un'ottica difensiva si stagliano plurimi profili di inammissibilità delle domande di controparte così come anche nel merito la prospettazione avversaria del lamentato danno soffre di notevole genericità e si presta ad essere confutata, scrivono da Palazzo San Francesco nella delibera di giunta comunale con cui sindaco e assessori, fatta eccezione del vice sindaco Casciani e della Tutari che non erano presenti, hanno dato mandato all'ufficio legale dell'ente di resistere in giudizio. La prima udienza di comparizione è fissata per il prossimo 12 marzo 2023.